ricarico gli scu... A terra! Ricarico gli scu... Mi servono degli scu... A terra! Abba! Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Mi hanno individuato! Sto ricercando... Sto ricercando... Sto ricercando... Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Ricarico gli scu... Rirassiti... Sì Sì